Seminatrice Martinelle 1952. Questa seminatrice era fatta per le moto falciatrici BCS. Questa ruota azionava la seminatrice. Qui ha gli attacchi. Qui ci sono ancora le istruzioni originali delle varie tipi di semina dove si regolava questa leva per la velocità di scarico e questa davanti invece per la grandezza del chicco. Qui c'è la leva che dal momento che si guidava quando si era nel campo si abbassava questo e la seminatrice si appoggiava in terra. Questa ruota dentata azionava gli ingranaggi della semina. Qui si poteva anche decidere la profondità più o meno fondo così si è rialzata. Ruota davanti che agevolmente girava. In più questa seminatrice ha anche le gabbie da applicare alle ruote. Appettiamo. ... ... ... ... ... ... ...